Cambiano da oggi le modalità di deposito degli imballaggi nei cassonetti del comune di Filiene Incisa. Infatti sono state riaperte le bocche delle campane azzurre per agevolare gli utenti nel conferimento degli imballaggi in plastica, alluminio e acciaio, banda stagnata, tetrapac e polistirolo. L'azione interesserà tutto il territorio di Incisa e quelle frazioni di Filiene dove sono presenti le campane azzurre del multimateriale leggero. La decisione dell'amministrazione è il frutto di verifiche sui dati raccolti nell'ultimo anno dopo la chiusura delle bocche stesse. Questo provvedimento riguarderà tutto il territorio di Incisa e appunto Cesto, Gaville, Porcellino e Restone, appunto dove c'è il metodo di raccolta con l'e-gate e con la chiavetta elettronica. L'anno scorso, nell'estate verso luglio, adottammo questo provvedimento di chiusura, di restringimento delle bocche delle campane azzurre per il multimateriale in seguito a dei provvedimenti e delle nuove normative nazionali che abbassavano le soglie di impurità consentite all'interno delle campane. Questo ha portato subito a un miglioramento dei risultati, siamo tornati immediatamente nelle soglie previste dalla normativa, però ha ovviamente complicato, ha portato un po' di disagio ai cittadini che si sono trovati costretti a fare il conferimento oggetto per oggetto, bottiglia per bottiglia e non con il classico sacchetto che facciamo in casa e poi buttiamo tutto insieme. Quest'anno, dopo un anno di ottimi risultati, anche a seguito di altre condizioni che sono cambiate, riapriamo le bocche e quindi avremo un migliore e un più facile e un più agevole conferimento dei rifiuti. Ciò non toglie che ciò che possiamo buttare dentro sono sempre le stesse cose. È comunque necessario che gli utenti effettuino una corretta raccolta differenziata dei rifiuti? Invito tutti a fare attenzione ai nuovi adesivi che abbiamo inserito sulle campane azzurre, perché si introduce un nuovo concetto che è quello degli imballaggi, che sono i contenitori che vanno all'interno di queste campane, eliminando la parola multimateriale che comunque poteva creare dei fraintendimenti o confusione. Negli adesivi vedete cosa deve essere conferito suddiviso per materiale. Il non conferibile, quindi ciò che non dovete buttare in questa campana, è scritto chiaramente in rosso, quindi cercate di fare un altro sforzo e fare attenzione.